Buongiorno, seconda puntata di La vita alla quarto, Lorenzo eccetera. Inizio questo astruso pezzo che ho scritto nel mio primo giorno di ferie a quarto perché ho scelto di non spendere tutti i soldi che ho per andare in montagna e che è troppo banale, allora rimango qui. Inizio con una cosa che non c'entra niente con il pezzo che ho scritto per voi. Ieri ho visto una partita di calcio con mio figlio piccolo e il cronista di Mediaset Premium ha chiamato per tutta la partita un giocatore francese, la mela, è francese, io ho provato a chiamarlo al telefono perché si dice la mela, la mela e lui per tutto il tempo ha detto la mela e noi rivevamo alle giadri. La parola contesto è affascinante perché significa più cose, se ci pensate. Allora, il contesto è il luogo dove si svolge l'azione, in questo caso il contesto è casalingo. O esprimo la mia diversa opinione, non sono d'accordo con il discorso di la mela perché è giusto dire la mela e con una piccola licenza poetica, cambiando un po' la parola, contesto, cioè con una parte scritta. Quindi posso scrivere un testo dove contesto il contesto, eccetera, posso farlo. Quando la mattina prendo il treno, perché sono molto forte, vedo un sacco di adolescenti con la stessa giacca, la stessa marca, tipo di calzoni, con i risvoltini, anche se c'è meno tre gradi, hanno i calzini corti o i calzoni sbregati da 90 euro. Stesso taglio di capelli è moda o omologazione? Non lo so. Io li chiamo tra me e me adolfescenti, però ho scoperto che il tra me e me a volte è a voce alta, quindi dovrebbero incazzarsi, ma non si incazzano quando li chiamo adolfescenti, perché non colgono la battuta, cioè non la capiscono, non c'è un riferimento culturale in questo caso. Ultimamente tutti parlano di fascismo, antifascismo e cucina, questi sono gli argomenti imperanti, imperiali, quello. E anche se in modo stiracchiato i due mondi sono legati, spesso ho sentito la frase che in cucina non ci deve essere la democrazia, neanche in una compagnia teatrale se è per quello, il capo comico è il dittatore, il leader riconosciuto o no, lo chef è il capo della cucina. E non è un caso che lo staff che lavora sui fornelli o che lava i piatti, eccetera, attorno all'universo cucina si chiami brigata. A me, per esempio, gli adolescenti non stanno sul cazzo, perché io non sono né Michael Jackson né Pasolini. Presumo di capirli, ma non è vero. Perché non puoi capire una cosa che per prima non si capisce, perché si sta formando, no? Una volta venivano criticati per i libri che leggevano, no? I fiori del male, Baudelaire, bla 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 bla, ora per i siti che frequentano. Giro il foglio. La me là. Gli adolescenti e il sesso. E ho quasi finito questa rubrica, perché sono troppo... Devo andare a portare il cane a cagare. Parto da Caparezza. Da quando lo ascolto e apprezzo, il mio figlio grande ha smesso di ascoltarlo. Lo adorava. Il suo unico concerto è stato quello di Caparezza. Ora preferisce altri artisti, fruitori di canne, che parlano di canne, mentre si sono fatti la canna, in rima baciate male. Però ci sta. Sono i loro gusti. Noi non dobbiamo entrare più di tanto in questo. Pensavo fosse l'effetto famoso, vecchio, che non ho inventato io. Se fingi di adorare quella testa di cazzo del fidanziatino di tua figlia, lei prima o poi lo scarica, lo manda a cagare. No, non è così. Ho capito che Caparezza è troppo colto per adolescente medio, perché fa riferimenti continui a cose anche della mia generazione, Caparezza non è un proprio vecchio, non è un ragazzino, fa riferimenti a quadri, a opere d'arte, a film, a artisti, a personaggi storici, a comunismo, che loro, gli adolescenti, non conoscono e che quindi non capiscono. Far sesso a 14 anni è fattibile, se hai un cazzo è una figa. Se hai tutte e due sei un mosto fortunato. Ma si può fare, ma è troppo presto. Salve.